Ciao a tutti, sono Titan e oggi sono qui tornato per parlare di un argomento un po' diverso dal solito, ovvero del discorso del ex premier ormai Giuseppe Conte al Senato e poi dopo di lui hanno parlato anche il ministro degli interi Salvini e Renzi. Ma io voglio analizzare un attimo quello che ha detto Conte. Ha dato semplicemente una lezione a Salvini di cos'è il diritto, di cosa significa, di cos'è la Costituzione. Gli ha proprio insegnato come dovrebbe fare il suo lavoro ed è stato anche troppo gentile. Avrebbe dovuto svegliarsi prima, sì sono d'accordo, però tutto quello che ha detto è sacrosanto e ha mangiato Salvini, lo ha divorato. Ha detto tutte cose che condivido pienamente, soprattutto il fatto che Salvini ha fatto propaganda per salire al governo, diciamo, e quando è salito ha continuato a fare propaganda perché la sua posizione non gli bastava e voleva di più. Quindi, e quindi questo ovviamente va, cioè nel senso non è che va contro la legge, ma comunque dai responsabili. E una frase che mi è restata in mente è che gli italiani hanno diritto di votare, ma invogliarli a votare continuamente e dai responsabili. Una cosa del genere, non mi ricordo precisamente le parole che aveva proferito il premier. E il discorso è finito con le sue dimissioni e beh, comunque Conte lo rispetto, un bravo uomo, cioè bravo uomo non lo so, comunque poteva essere meglio se avesse parlato subito perché anche lui bisogna dire che ha accomodato un po' le mani di Salvini all'inizio. Non ha detto niente su Di Maio, però avrebbe potuto dire anche su Di Maio perché il governo non era solo di Salvini ma anche Di Maio e pure lui ha fatto tante promesse ma non ne ha mantenuto mezza. Questo può far pensare a una futura candidatura di Conte nei 5 Stelle, ma queste sono solamente le azioni mie e non hanno fondamento. Poi Salvini è stato veramente ridicolo, un pagliaccio, Salvini sei un pagliaccio, un pagliaccio, un pagliaccio, un pagliaccio. Perché dopo un discorso così ben scritto e articolato di Conte, tu hai avuto il coraggio di fare un discorso senza capo né coda, citando persone che non c'entrano veramente niente con quello che tu dovevi dire e le accuse da cui ti dovevi difendere come Benedetto VII mi sembra. Sì, mi sembra che fosse lui, adesso non lo ricordo, mi sembra un papa, aveva citato un papa, mi sembra Benedetto XVI. E poi, vabbè, veramente il tuo discorso in saccapo né coda, l'hai buttata quando la gente ti contestava, tu l'hai buttata in cacciara perché non sapevi cosa dire. Ma caro Salvini, ti ricordo che tu stavi facendo, stavi parlando al Senato, non stavi parlando al tuo elettorato di ignoranti. Beh, Dio, anche gli elettorati degli altri partiti non è che siano troppo svegli, però comunque la Lega penso che la maggior parte degli elettori della Lega non sono per niente svegli, se non avrebbero votato Lega semplicemente. Io non voglio dare la mia, cioè io sto dando un'opinione, non la mia posizione politica, io non odio la Lega. Odio quello, io, cioè odiare un partito a prescindere è una stronzata. Bisogna odiare, cioè odiare, odiare per voi dire, tu devi contestare un partito non a prescindere perché si chiama Lega Nord, perché si chiama PD, perché si chiama 5 Stelle o che cazzo ne so, perché si chiama partito comunista. Tu devi contestare un partito come una persona in base a quello che dice e a quello che fa. Salvini ha fatto promesse che sembravano impossibili, infatti sono rivelate impossibili perché non ne ha mantenuta neanche una. Continua a dire di tagliare i parlamentari, della TAV e tutte queste cose, ma quando lei fa 14 mesi mi sembra di governo, hai fatto qualcosa di queste cose, non mi sembra. Anzi, hai peggiorato quel poco di buono che è stato fatto nei governi fallimentari precedenti, che tu dicevi di far meglio, invece hai fatto peggio. Poi vabbè, lasciamo stare che la buttava in cacciara ogni due minuti quando lo contestavano, perché quando non sai cosa dire e sai che hai un elettorato ignorante, la butti in cacciara, spari stronzate, tanto ti credono perché tu sei Matteo Salvini. Poi vabbè, Renzi alla fine ha fatto un discorsetto. Boh Dio, era già un po' più ragionato rispetto a quello di Salvini, non che ci voglia molto, però non ha neanche detto chissà cosa, ha detto che col suo governo ha fatto meglio di questo, ma niente di particolare. Beh, comunque questo è quello che ne penso. Poi alla fine Conte ha detto quello che doveva dire, tutto sacrosanto, nessuno gli toglie nulla, devo dirlo prima, però meglio tardi che mai. Salvini è stato un pagliaccio da quando ha iniziato il discorso, quando l'ho finito, non ha detto una cosa seria e non ha mantenuto e ha fatto promesse che non manterrà neanche stavolta. Poi vabbè, Renzi ha detto il suo, niente di speciale, però ci si aspettava un'intervento del genere. Beh, per questo video è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!